Qual è il tuo rapporto con l'anist e con i jeans? Io ho cominciato, il mio primo jeans è un Levis, quindi il Levis per me è il jeans, porto Levis da sempre Quanti paia ne hai nel guardaropa? Adesso non lo ricordo, poi sono sparsi, li perdono, sono sempre, però c'è ne ho un po' Il primo Levis te lo ricordi? 501, che è quello che porto a me forse Ma forse avrò avuto 12 anni Sì, 12 anni